L'indiscreto, l'approfondimento giornalistico su fatti di cronaca, attualità e politica. L'indiscreto, dentro la verità, dentro la notizia, a cura della redazione giornalistica del quotidiano di Gela.it. Nuova puntata dell'indiscreto, con noi abbiamo questa volta il segretario cittadino del Partito Democratico, Peppe Di Cristina. Anzitutto Di Cristina, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buona serata. Abbiamo deciso di invitare il segretario cittadino del Partito Democratico, soprattutto per quello che rimane, il partito di riferimento nella sfera del centro-sinistra, anche locale. È stato un periodo abbastanza convulso, sia in aula consigliare, sia fuori dall'aula. Peraltro i democratici sono reduci dalla festa dell'unità organizzata in città. Di Cristina, per rimanere nell'attualità più immediata, nell'escorsiore in aula consigliare è passato il bilancio di previsione 2016. Voi avevate presentato una serie di emendamenti che in realtà hanno ricevuto poi i pareri tecnici negativi, quindi non si è neanche passati alla discussione. Al di là di questo, avete votato in blocco no al bilancio di previsione. Questo no rimarca ulteriormente le vostre distanze dall'aggiunta del sindaco Domenico Messinese, nonostante in realtà in un primo momento vi si dava abbastanza vicini a questa giunta. Guarda, per l'ennesima volta provo a fare chiarezza rispetto a un fatto che è di grande coerenza. Non eravamo prima vicini, non siamo adesso distanti. C'è un atteggiamento di coerenza che è il filo conduttore di tutta l'azione politica del Partito Democratico. Il Partito Democratico era, è e sarà un partito di grande responsabilità, che lavora sempre in un quadro di responsabilità nei confronti della città, rispetto alle priorità c'è stato e ci sarà, poi è un partito che coerentemente resta all'opposizione rispetto a questa giunta, perché in democrazia c'è chi le elezioni le vince e c'è chi le elezioni le perde. Noi le elezioni le abbiamo perse e stiamo all'opposizione. Messinese e la sua giunta le elezioni le hanno vinte ed è giusto che governino la città, punto. Insomma, in sostanza ribadisce che non c'è mai stata nessuna vicinanza con questa giunta. No, è un tema che secondo me è stato più costruito che è costruito su aspetti irreali che su fatti concreti. Mi sembra che il Partito Democratico abbia avuto sempre un atteggiamento di grande coerenza e soprattutto dimostra di essere un partito anche molto serio e combatto, perché il fatto che ieri tutto il gruppo consigliare abbia avuto un atteggiamento coerente in aula mi sembra questo l'esempio, diciamo l'immagine più plastica, più concreta della forza e della combattezza di questo partito, anche in aula consigliare. Di Cristina, perché no al bilancio? Cioè un no soltanto politico? Ma il no, io ora entro in una vicenda spinosa. Il tema è tutto politico e contamboraneamente è anche un tema di carattere generale, perché il Partito Democratico ha posto quegli amendamenti, poi lasciando perdere i tecnicismi perché rischiamo perfino di annoiare chi ci ascolta. rispetto all'apertura, l'impressione che ci ha dato l'aggiunta è quella di una chiusura netta e del fatto che comunque dimostrasse una certa autosufficienza, mettiamola così, e quindi non abbia voluto dialogare. Mi risulta che più volte il capogruppo perfino la mattina abbia provato, a nome e per conto di tutto il gruppo consigliare, una mediazione. Questa mediazione non è stata possibile. Arrivata a quel punto ci sembrava come partito un atteggiamento di coerenza votare no. Tutto qua. Ma è un fatto normale, in democrazia succede, non siamo stati neanche gli unici a votare no, mi sembra. Io, quello che invece comincia a preoccuparmi e dovrebbe preoccupare la città è che tutti i partiti che hanno riferimenti solide, cioè il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, nella loro diversità abbiano votato no a questo bilancio. Questo è un tema che politicamente dovrebbe avviare una discussione, perché poi ognuno la può pensare come la vuole, ma io sono tra quelli che convinto che ancora oggi il ruolo baricentrico della politica sia all'interno dei partiti. Quando non ci sono i partiti, personalmente io mi preoccupo. Le ribalto la domanda. Invece il sì al bilancio, secondo lei, anche da un punto di vista politico, ha sancito quella maggioranza, quel blocco che può stare a sostegno del sindaco? Secondo me no, perché il voto del bilancio di per sé è un voto spinoso, quindi io non faccio lì una regola di ordine matematico, che è già complicato in politica fare delle regole di ordine matematico. Poi ogni consigliere comunale, ogni gruppo consigliare avrà avuto un atteggiamento, un modello, una motivazione. Certamente parte di quei voti possibilmente si possono ritrovare in una prospettiva anche di giunta, io questo non lo so, bisognerebbe chiederlo al sindaco e coi consiglieri, altri lo avranno fatto in un quadro di irresponsabilità, diciamo io sono la persona meno adatta per rispondere a questa domanda. Certamente si registra che c'è una maggioranza assoluta del Consiglio Comunale che ieri ha votato sì, si parte da questo, però mi sembra che qualcuno oggi già stamattina si vergognava di aver votato sì, faceva dei distinguo, rinnovava il fatto che voterebbe una possibile emozione di sfiducia. Vediamo come andrà avanti nel tempo. Noi continuiamo a fare il nostro ruolo, che è quello di essere un grande partito che fa delle scelte di coerenza, che si confronta, che sta in mezzo alla gente e che costruisce politica. Di Cristina, lei non crede che stiate correndo però il pericolo di passare per una forza politica diciamo del no a prescindere? No, su questo io le assicuro che non passeremo mai come una forza politica del no a prescindere. Noi siamo una forza politica che costruisce percorsi e che mette in gambo ragionamenti politici. Ripeto, sul bilancio si è verificata una situazione paradossale arrivata a un certo punto perché noi siamo stati i primi a mettere in gambo degli emendamenti, poi su questi emendamenti ci sono stati dei pareri tecnici, conosciamo la vicenda, però diciamo tra le parti c'è stato un irrigidimento che io do delle responsabilità maggiori ovviamente all'amministrazione comunale perché ripeto, da quello che mi risulta il gruppo ha approvato una mediazione fino alla fine. Detto questo vedrete così come è stato in passato che rispetto alle cose serie e quando tra l'altro c'è da fare gli interessi di generare la città il Partito Democratico certamente sarà presente e darà il suo contributo fattivo per la città. Di Cristina, uscendo un po' fuori dall'aula del Consiglio Comunale, ovviamente anche voi sapete che la situazione economica è veramente difficile, siete stati tra quelli che hanno sposato la famosa vertenza Eni che poi in realtà pian piano è andata diciamo scemando allo stato attuale. Quindi le ripercussioni sono tante, soprattutto l'indotto come sappiamo bene. Ecco, voi di recente insomma avete proposto diciamo delle tra virgolette soluzioni interne nel senso di organizzare anche una serie di incontri con i vostri referenti diciamo romani o comunque ministeriali e governativi. Ecco io invece farei però prima un passo indietro diciamo che molti attribuiscono grandi colpe al protocollo di due anni fa insomma che ha delineato diciamo questa riconversione a Green insomma è tutto quello che poi ne consegue. ecco io le chiedo questo ma il partito democratico di Cristina si sente anche responsabile di ciò che è accaduto? Allora noi rispetto a questo io ho più volte risposto e faccio un ragionamento di ordine un po' più generale per riandare il particolare. Questa è una città che sta soffrendo una crisi che non ha precedenti nella storia recente. La vicenda del petrolchimico noi abbiamo deciso fin dall'inizio della mia segreteria e guardi io sono tra quelli che il protocollo non l'ha firmato e io ero candidato al consiglio comunale di questa città e dicevo che quell'accordo è stato frettoloso. Tuttavia siccome non si può trattare con populismo e demagogia una vicenda così drammatica che sta investendo centinaia di famiglie dei nostri concittadini e che sta vedendo cambiare perfino il ritmo del tenore della vita della città, noi fin dall'inizio abbiamo avuto un atteggiamento di grande responsabilità. Da quando io sono segretario, cioè dal 7 febbraio, io sono intervenuto rispetto a questa vicenda tre o quattro volte in nove mesi e tuttavia mi creda che è permanente l'impegno del partito rispetto a questa vicenda. Lo facciamo senza fanfare, lo facciamo in maniera non diciamo roboande, ma lo stiamo facendo con costanza perché da una parte bisogna dare rappresentanza alla tragedia che stanno vivendo quelle famiglie, dall'altra parte però bisogna come forza politica responsabile sostenere un percorso di riconversione industriale che immagini in prospettiva una città che mantenga quella vocazione ed è lì la differenza con altre forze politiche. E quello è il punto centrale. Rispetto a questo il Partito Democratico dall'8 febbraio ha sempre sostenuto che la città debba continuare ad avere una vocazione industriale. Ora la battaglia qual è? La battaglia o per meglio definirla la grande sfida della città è quella di garantire una vocazione industriale che garantisca il numero più alto possibile di posti lavoro. Poi certamente in passato ci saranno commessi degli errori, oggettivamente ripeto ci saranno stati anche degli atteggiamenti frettolosi. Detto questo però noi non possiamo avere un atteggiamento che sia demagogico rispetto alla vicenda perché se no non saremmo una forza politica seria. E per me sarebbe perfino semplice attaccare tutti coloro i quali hanno firmato quel protocollo e diciamo fare il capopopolo ma non è né nella mia cultura politica e non è neanche nella cultura politica del Partito Democratico. Quindi il mio impegno è quello di tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico della città e quello di sostenere un percorso che dia a questa città una rappresentanza regionale e nazionale affinché questa città possa avere un processo di riconversione industriale e le garantisco che su questo stiamo lavorando. E lo stiamo facendo nei tavoli nazionali con grande serietà. Non in ultimo io ho portato questa vicenda al Partito Nazionale, al Vice Segretario Nazionale del Partito, al Presidente Nazionale del Partito. Ci sono membri della Commissione di Attività Produttive, avremo presto altri incontri. Stiamo facendo un lavoro serio, lo stiamo facendo senza fare comunicati stampa ma facendolo il lavoro che è la cosa più seria e soprattutto lo stiamo facendo senza attivare percorsi demagogici e popolistici perché possono creare delle aspettative che noi in questo momento non dobbiamo creare. Noi in questo momento dobbiamo dare risposte alla città, risposte adeguate perché il tema è drammatico nella sua serietà. Ecco Di Cristina, proprio rimanendo in questa fase, voi siete reduci dalla festa dell'unità che avete organizzato in città dopo diverso tempo, ora vado a memoria. insomma, l'avete organizzata appunto in un periodo che sappiamo tutti non essere semplice per questa città. Ecco, alcuni vi hanno anche attaccato per questa scelta, decisione di far venire in città, far arrivare anche presunti nemici di questa città. In primis il vice sindaco Simone Siciliano, diciamo, non è stato tenero nei vostri confronti. I nemici della città, secondo il vice sindaco, sono quelli con cui lui va a trattare a Roma. Io vorrei capirlo perché su questo anche lì mi sembra che il vice sindaco abbia come sempre atteggiamenti di confusione. Chi sarebbero i nemici della città? Io capisco che qualcuno è preoccupato del ruolo baricentrico che il Partito Democratico ricopre naturalmente. La festa dell'unità cosa è stata? La festa dell'unità è stata la dimostrazione plastica di un partito straordinario che ha delle capacità fortissime, che è quello di ritornare alla villa comunale in mezzo all'agente e non al chiuso di un teatro e poter organizzare 11 dibattiti in 4 giorni rispetto a 11 tematiche centrali davanti a centinaia di persone e a dare risposte alla città. Ora, se il vice sindaco comincia a fare nome e cognome, dica chi sono i nemici della città e ci spieghi lui invece cosa fa a favore di questa città. Perché sarebbe utile che il vice sindaco cominci a pensare più a fare l'amministratore invece di attaccare chi mette in campo attività politica con grande serietà. Ecco, di Cristina, da questa sua risposta denoto che il suo approccio verso la giunta non è, mi pare, favorevole. Lei mi pone una domanda, lei mi ha chiesto il vice sindaco, vi ha attaccato e io mi difendo. Diciamo che è esattamente l'opposto, perché anche in consiglio comunale, insomma, io guardi, leggo sui giornali e vedo delle dichiarazioni che sono particolari, cioè praticamente c'è qualcuno che sta tentando di porre la questione esattamente all'opposto della realtà. In questo momento siciliano è il vice sindaco della città e messinese è il sindaco della città. Il Partito Democratico è all'opposizione. Io vorrei che questo quadro fosse chiaro, perché è quello che è uscito dalle urne. Io è paradossale che chi amministra la città riversa a chi ha l'opposizione le responsabilità di tutto. Il fatto che il Partito Democratico abbia compiuto degli errori è stato sancito 16 mesi fa dall'elettorato gelese che ci ha bocciati e che ci ha detto andate all'opposizione. C'è stato chi le elezioni le ha vinte e nella fattispecie il Movimento 5 Stelle è Domenico Messinese. Poi si è scelto in un rapporto fiduciario degli assessori che non sono stati eletti, ma la legge gli permette attraverso il rapporto di fiducia di sceglierle e quindi sono legittimamente degli assessori. Punto. Poi, ripeto, attaccare la festa dell'unità perché sarebbero venuti dei nemici della città. Si facciano i nomi e cognomi di questi nemici della città che sarebbero venuti da questa unità. Io dico che, ripeto, avviare una grande discussione politica rispetto a delle opportunità in quattro giorni di politica in cui sono venuti 20 parlamentari tra regionali e nazionali, esponenti dell'esecutivo nazionale del partito, assessori regionali che hanno responsabilità baricentriche. Io penso che sia stata un'opportunità per la città perché, per esempio, nel tavolo della sanità, che è stato partecipatissimo, noi, nell'ambito della festa dell'unità, abbiamo visto l'assessore regionale alla sanità prendersi delle responsabilità e degli impegni precisi per migliorare la nostra struttura ospedaliera, tra questi il sì alla breast unit. Ora le faccio una domanda. Questo è un fatto positivo o è un fatto negativo? Il fatto che l'assessore regionale all'agricoltura, insieme a un parlamentare europeo, abbia preso degli impegni precisi per sostenere i percorsi agricoli della nostra città attraverso la trasformazione sempre più verso una visione imprenditoriale dell'agricoltura. È un fatto positivo o è un fatto negativo? Il fatto che si sia parlato di formazione professionale e di scuola alla presenza dell'assessore regionale alla formazione di un altro parlamentare competente in materia è un fatto positivo o un fatto negativo? Oltre a questo abbiamo messo in campo tantissimi dibattiti sulle pari opportunità, su cento altre cose e questo mi sembra che sia un fatto positivo. A me restano in mente le parole del sindaco di Catania Enzo Bianco che alla fine facendoci complimenti tra i tanti che ci hanno fatti i complimenti hanno detto che questa potrebbe essere una sorta di nuova Leopolda gelese e che lui è disponibile di venire ogni anno perché è una chiave diversa. Perché quella è stata una straordinaria opportunità di confronto per tutti che è stata molto apprezzata. ripeto è dove abbiamo avuto personalità di primissimo livello e contemporaneamente abbiamo dimostrato che il partito democratico di questa città ha un ruolo baricentrico perché quella è stata la dimostrazione plastica che quanti dicevano che il partito democratico della città fosse un partito democratico isolato dicevano una bugia perché 20 parlamentari che vengono in una quattro giorni mi sembra che sia la dimostrazione più palese di un partito che invece ricopre un ruolo baricentrico e a livello regionale e a livello nazionale e su questo noi non rinunceremo a ricoprire quel ruolo. Io capisco chi è marginato e chi non ha nessuna forza politica e quindi deve cambiare come il vento. Noi abbiamo dei riferimenti solidi a livello regionale e nazionale e li utilizzeremo per il bene della città. Quindi si mettano l'anima in pace perché rispetto a questo percorso che abbiamo avviato non ci fermeremo. Già nelle prossime settimane le faremo sapere una novità rispetto alla vicenda più spinosa di cui parlavamo prima e organizzeremo un altro grande evento a sostegno del referendum e per il sì con un dirigente nazionale di primissimo livello e poi altri ancora perché ripeto la città io ritengo che abbia bisogno di un partito poi al netto di come la si pensi che comunque mette in gambo politica perché noi solo su quello ce la possiamo giocare sulla politica perché l'unica cosa che sappiamo fare. Poi altri se la giocheranno sulla demagogia qualcun altro se la giocherà sulle faccende ognuno se la gioca come si vuole. Noi giochiamo nel campo della politica delle proposte e cercando di costruire un'alternativa che coinvolga un largo gruppo dirigente che vuole ricostruire un rapporto con la città. Di Cristiano mi faccio dire anche che spesso gli impegni assunti in una festa di partito rimangono nella festa di partito. No ma guardi io su questo con forza le dico che non è così perché siccome siamo qui un assessore regionale non lo ha detto solo nell'ambito del dibattito. Guardi c'è stato qualcuno criticando e ha detto che è servito per riappropriarsi con pezzi di elettorato e con pezzi di potendato della città. Io dico che è vero che c'erano pezzi importanti di categorie. C'erano le categorie della formazione in un convegno, c'erano le categorie della scuola in un altro convegno, c'erano diversi esponenti del campo sanitario, della struttura ospedaliera e della città. Ma quando un assessore regionale dice la Brecht Unit si farà, è una responsabilità precisa che prende l'assessore regionale. Tra l'altro l'ha fatto anche con un microfono e una telecamera davanti. Io sarei un poco più cauto anche rispetto al fatto che questi impegni non si prenderanno. Ci sono stati degli impegni precisi, presi in maniera direi perfino solenne e io sarei rispettoso nei confronti di cui quegli impegni li ha presi. Perché la scommessa di un partito che appunto ha perso le elezioni, appunto è stato bocciato dall'elettorato, ma sta lavorando per costruire un'alternativa credibile insieme a tutto un gruppo dirigente, sta anche nel fatto che questi impegni devono essere mantenuti. E noi faremo di tutto affinché questi impegni vengano mantenuti. Ma non nell'interesse del Partito Democratico che sarebbe strumentale negli interessi della città. Di Cristina, le ultime battute prima di chiudere. Lei poc'anzi faceva riferimento anche alla Leopolda, insomma alla possibilità di organizzare qualcosa di più ampio anche in città. Ecco, però mi viene da pensare che in realtà la Leopolda, diciamo, è stata voluta da Renzi, no? Renzi lo abbiamo conosciuto un po' tutti tramite quell'iniziativa. Invece in città molti renziani hanno scelto, diciamo, strade alternative. Ma secondo lei, appunto, anche quello che è successo con Adesso Gela è, come dire, una scelta politica oppure soltanto una scelta di interesse? Allora, io distingo le due cose andando in maniera che devo dire. Io le ho fatto la battuta che ha fatto il sindaco di Catania, Enzo Bianco, complimentandoci con noi. L'ho presa per questo. Come io in quella sede mi sono preso l'impegno. Io sono uno che gli impegni quando li prende li mandiene. Io ho detto quattro mesi fa che la festa di unità la facevamo e l'abbiamo fatta. Io ora dico che questa festa deve essere un appuntamento fisso ogni anno di discussione politica e che deve essere anche potenziato, allungato, migliorato perché mi sembra che sia un fatto positivo per la città. Il fatto che oltre ai vendi parlamentari siano venuti per esempio 23 amministratori di 23 comuni diversi del comprensorio per darle un numero e capire cosa è stato gelo in quei quattro giorni. Ritornando a chi ha fatto una scelta diversa, guardi io ho un tratto che non è mai polemico. Lei mi conosce anche nel momento in cui c'è stato il confronto, lo scontro, mi si è dato atto che ho avuto sempre un atteggiamento di responsabilità. Ho sempre detto però come la penso rispetto a quella vicenda. Io credo che rispetto a quella vicenda dietro ci siano anche interessi, e interessi lo dico nel termine lessicale senza voler offendere nessuno, da parte di qualcuno di doversi candidare alle prossime regionali. Se mi sbaglio non avremo candidati alle regionali, se invece ci sarà il candidato alle regionali questo sarà una testimonianza viva. Però io non sono tra quelli che si entusiasma, non mi entusiasmano questi ragionamenti. Io vorrei parlare invece dei problemi che affliggono la città e di quello che il partito vuole fare. Chi fa scelte diverse ha il mio rispetto, lo capisco, voglio dire, ognuno avrà i suoi atteggiamenti. Il Partito Democratico porta avanti una strada con grande chiarezza, con grande serietà e con grande coerenza. E guardi, lei a quel congresso del 7 febbraio c'era. In quel congresso noi abbiamo detto sostanzialmente tre cose. Abbiamo detto che dobbiamo portare il partito nelle piazze e lo abbiamo fatto con gli stand. Quando io annunciai in un convegno partecipatissimo che noi avremmo organizzato gli stand per raccogliere le firme per il sistema referendum, io mi ricordo che c'era qualcuno che sorrideva. Vabbè, non lo faranno mai. E lo abbiamo fatto. Avevo detto che avremmo organizzato una festa dell'unità all'aperto per più giorni. E anche lì io vedevo che c'erano dei sorrisi, si parlava. Vabbè, non avranno mai il coraggio di farlo. E invece noi, che è risaputo che riempiamo i teatri, riempiamo le sale degli hotel, eccetera, abbiamo accettato una sfida che io invito le altre forze politiche, compreso l'amministrazione comunale, a farlo. Cioè prendersi uno spazio pubblico per quattro giorni e affrontare la città rispetto a temi, proposte, questioni, dimostrare di avere una visione della città in maniera pubblica. Noi lo abbiamo fatto. Spero che lo facciano pure gli altri. Il terzo obiettivo era quello di costruire una grande comunità all'interno del partito. Io che vengo da un grande partito di sinistra, essere comunità era un fatto essenziale. Ecco, la grande scommessa è trasformare il gruppo dirigente del Partito Democratico in una grande comunità. Se riusciamo a raggiungere questi tre obiettivi, io credo che noi abbiamo costruito un partito ulteriormente competitivo, un partito che sarà partito e che con tutti i difetti che abbiamo, e ne abbiamo tanti, in questo momento mi sembra che siamo nel panorama politico della città e del Paese l'unico partito presente perché l'altra grande forza politica organizzata è il Movimento 5 Stelle, ma si definisce Movimento, non si definiscono partito neanche loro. Quindi io credo che invece in democrazia i partiti, riuso questo termine per la seconda volta durante l'intervista, abbiano un ruolo baricentrico perché sono lo strumento della democrazia e quando un partito funziona, le dico di più, quando ci sono più partiti che funzionano allora funziona la democrazia. Quando invece qualcuno ha una visione che i rapporti li deve avere con i singoli consiglieri comunali, li deve avere con le singole persone, allora quello è il modello del caos e il modello del caos verrà osteggiato sempre con forza dal Partito Democratico. Va bene, noi abbiamo concluso il tempo a disposizione e ringraziamo il segretario cittadino del Partito Democratico, Peppe Di Cristina, per essere stato con noi. Ancora grazie Di Cristina. Io ringrazio a voi e buona serata a tutti i radio e i telespettatori. Questo era l'Indiscreto, io vi rinvio alle prossime puntate. Ancora grazie. Grazie, grazie. L'Indiscreto, l'approfondimento giornalistico su fatti di cronaca, attualità e politica. L'Indiscreto, dentro la verità, dentro la notizia, a cura della redazione giornalista del quotidiano di gel.it.